Hai presente quando le cose non vanno come vuoi tu e allora pensi, sarebbe potuto andare in modo diverso? Secondo Hegel no, non sarebbe potuto andare in modo diverso, altrimenti sarebbe andata in modo diverso. Secondo Hegel tutto ciò che è reale è razionale e tutto ciò che è razionale è reale e ogni cosa, per quanto possa sembrarci assurda, ha un motivo d'essere. La filosofia di Hegel è tipica di un'epoca in cui c'era molta fiducia nel genere umano e c'è chi pensa che se fosse vissuto solamente cent'anni dopo e avesse visto le guerre mondiali, la sua filosofia sarebbe stata totalmente diversa, però c'è anche chi ancora oggi ritiene che Hegel avesse ragione.